Ole essenziali per il buon umore. Gli oli essenziali possono aiutare a ritrovare il buon umore in maniera semplice e veloce, e senza particolari controindicazioni. Le piante ci fanno questo meraviglioso regalo, vediamo come usarlo. Gli oli essenziali e il loro effetto sull'umore. Gli oli essenziali sono degli ottimi aiutanti per il buon umore, soprattutto se utilizzati tramite la lampada brucia essenze e inalati. Ma come e perché funzionano? Lo stato emotivo di ciascuno di noi è determinato da molti fattori, molti dei quali sono reazioni fisiche a come vediamo il mondo. L'umore può, quindi, cambiare per fattori esterni e fattori interni. Se poco possiamo sui fattori esterni, poiché la vita non sempre ci porta ciò che desideriamo, ma anche ciò che, seppur faticoso, ci è utile per evolvere e crescere, molto possiamo, invece, sul nostro modo di affrontare gli avvenimenti, traendo il meglio e reagendo costruttivamente. Gli oli essenziali, insieme ad un lavoro più introspettivo, quale può essere la meditazione, permettono di innalzare il buon umore, alleviando situazioni cupe o pesanti, e rendendoci interiormente più propositivi e positivi. Aromaterapia per il buon umore Come funziona? Gli oli essenziali che si usano in aromaterapia e per inalazione, agiscono principalmente a livello del sistema endocrino, tramite l'olfatto raggiungono direttamente, senza il preliminare vaglio del talamo, il sistema limbico, deputato alla trasformazione degli stimoli sensoriali in risposte ormonali. È il sistema limbico a modulare la produzione di alcuni ormoni e di neurotrasmettitori che hanno diretta responsabilità sulle emozioni. Leggi anche oli, oleolitidoli essenziali, le differenze, gli oli essenziali per il buon umore, gli oli essenziali agiscono molto velocemente sull'umore, modulando ed equilibrando le emozioni. La diffusione del loro profumo, attraverso l'aromaterapia, li rende facili da usare e molto efficaci. I principali oli essenziali per il buon umore sono i seguenti, maggiore di olio essenziale di bergamotto, è un olio essenziale molto diffuso, dal basso costo, e dal piacevole profumo agrumato. Il bergamotto deriva dai frutti di una pianta simile al limone e all'arancio, e con questi condivide l'habitat soleggiato e caldo del sud Italia. Per questo il bergamotto ha la capacità di portare luce e calore negli stati di tristezza e depressione, ed è uno degli oli più utilizzati per stimolare il buon umore, maggiore di olio essenziale di lavanda. La lavanda è utilizzata nelle miscele per il buon umore in quanto stimola la tranquillità e l'armonia interiore, calmando l'ansia e stemperando stati emotivi cupi e pesanti. È un olio molto facile da usare, si può sciogliere in poca acqua nella lampada per aromi oppure anche usato in poche gocce su una fazzoletto di cotone e inalato nei momenti in cui se ne sente in bisogno. Maggiore di olio essenziale di rosmarino. Questo olio è tonico per il corpo e per la mente, sblocca situazione di ristagno e invita all'azione, maggiore di olio essenziale di limone. Come quasi tutti gli oli essenziali estratti dai frutti delle piante di agrumi anche il limone agisce sul centro mentale. Rinfrescando le idee e alleggerendo, è un ottimo tonico ed energizzante generale, maggiore di olio essenziale di rosa. L'olio essenziale di rosa è molto prezioso, agisce direttamente sul centro emotivo, sul cuore, ed è molto efficace per superare stati emotivi di depressione profondi e cupi. Per la sua grande forza di azione se ne consiglia un uso limitato e rispettoso, l'olio essenziale di rosa va maneggiato con cura e consapevolezza. Non è un olio semplice da abbinare in miscele, e di costo elevato.